Buongiorno, mi chiamo Margherita Gleba e sono una nuova docente al Dipartimento dei Beni Culturali all'Università di Padova. Ho studiato negli Stati Uniti, ho lavorato in Danimarca, Regno Unito e Germania e ora sono molto felice di continuare a insegnare e fare la ricerca a Padova. Mi specializzo nello studio dei tessuti e di altro materiale organico che non sopravvivono bene nei contesti archeologici ma che costituivano la stragrande maggioranza della cultura materiale del passato. In questa breve lezione vorrei presentarvi come possiamo studiare i tessuti archeologici e cosa impariamo da loro sul passato. I tessuti rappresentano una delle prime tecnologie artigianali umane e sono stati una parte fondamentale della sussistenza, dell'economia e dei riscambi per millenni. La conoscenza della storia tessile è quindi la chiave per la nostra comprensione di una moltitudine di questioni umane. I tessili possono raccontare aspetti sociali, cronologici e culturali della società passate e allo stesso tempo ci offrono un'opportunità unica per avvicinarci molto alle singole persone nella loro qualità di utenti e produttori di tessuti. Sebbene tecnicamente la parola tessile, che deriva dal latino texere, che vuol dire tessere, si riferisce esclusivamente al tessuto prodotto su un telaio, al fine della discussione che segue tutti i tessuti costruiti da fibre o fili intrecciati sono inclusi in questo termine, poiché durante la maggior parte della loro storia i tessuti non venivano prodotti sui telai. Ma quando inizia la storia tessile? Lo studio del DNA sulla divisione evolutiva tra pidocchi della testa e del corpo ha concluso che le persone hanno iniziato ad indossare abiti almeno per 83 mila e probabilmente già 170 mila anni fa. Anche se i primi indumenti erano molto probabilmente fatti di peli di animali che hanno continuato ad essere usati durante tutta la storia successiva e fino ad oggi. L'uso del tessile risale almeno al paleolitico, con l'uso di corde ed intrecci documentati sulle cosiddette figurine di Venere del paleolitico superiore, cioè dal 27 anni fa. Le prime prove dirette provengono dal sito di Pavlov, nella Repubblica cieca, dove sono state trovate impronte di tessuti intrecciati sull'argilla. Durante i millenni successivi la tecnologia si diffuse in tutta l'Eurasia e con l'arrivo degli umani nelle Americhe in tutto il Nord e Sud America. Entro il Neolitico c'era una vera esplosione di artigianato tessile con prove dirette presenti nell'area Levantina, in Anatolia ed Europa. Quindi durante gli ultimi diecimila anni di storia umana i tessuti sono diventati sempre più il materiale principale per l'abbigliamento e molti altri scopi utilitari. Questi piccoli frammenti possono sembrare semplici e senza pretese, ma sono le chiavi per sbloccare la nostra comprensione di come siamo arrivati ai capolavori come le sete del periodo degli stati combattenti in Cina o gli razzi di rinascimento. La misura in cui possiamo respingere la storia dei tessuti è in gran parte determinata dalla conservazione dei tessuti. Come tutti i materiali organici, i tessuti sono soggetti a una decomposizione molto più rapida rispetto a materiali come ceramica, pietra o metallo. Tuttavia i tessuti sopravvivono in contesti archeologici molto più frequentemente di quanto si creda e sebbene distribuiti in modo non uniforme e molto dipendenti dalle condizioni ambientali, la quantità di materiale è in costante aumento, in particolare grazie a procedure di scavo e restauro migliorate. Le condizioni favorevoli alla conservazione di tessuti includono per esempio l'aridità come per esempio in Egitto o in deserti sudamericani, la presenza del sale come le miniere di sale in Austria o anche in Iran, temperature basse come nel caso famoso di Ötzi o uomo di Similaun, acqua, in particolare il ristagno d'acqua che permette la conservazione dei tessuti come per esempio nei laghi alpini o le torbiere di Danimarca e anche il contatto con i metalli, in particolare metalli di rame come il bronzo. Queste condizioni mantengono i tessuti quasi inalterati. Invece carbonizzazione altera tantissimo l'aspetto di tessuto, diventa nero anche se riconoscibile come tale. E lo stesso accade nel caso di tessuti mineralizzati, quelli conservati in presenza di metalli, in particolare rame e ferro e anche in presenza di calcio in certi casi. Le impronte forniscono informazioni ancora più limitate, ma sono ancora di grande importanza, in particolare per le informazioni fornite sui primi periodi della storia tessile, come abbiamo visto nel caso di Pavlov. Le condizioni di conservazione influiscono sulle procedure analitiche che possono essere applicate a un particolare reperto e sulla qualità e quantità dei dati recuperati da esse. Ovviamente più indietro nel tempo guardiamo il meno tessuti sopravvivono, ma anche i pochi esempi esistenti ci consentono di risalire alla storia della produzione tessile e dell'uso attraverso lunghi periodi cronologici e attraverso vaste aree geografiche. I tessuti archeologici possono essere sottoposti a una vasta gamma di tecniche analitiche che portano a importanti scoperte relative ai suoi materiali, data e provenienza, e forniscono così dati sulla loro funzione, movimento, significato e ruolo nelle società passate. Gli oggetti possono essere studiati per se stessi e per le informazioni che trasportano sui loro produttori e utenti. La fabbricazione dei tessuti, come pochi altri materiali, richiede conoscenze concettuali, astratte, ma anche conoscenze pratiche o procedurali e pertanto comprende sia il contesto sociale che la tecnologia del passato. I produttori e gli utenti possono essere molteplici. Le diverse fasi della realizzazione sono evidenti soprattutto se i tessuti vengono trasformati in capi di abbigliamento. L'ampio riutilizzo di tessuti nelle società preindustriali fornisce anche un'indicazione del loro valore, valore per coloro che li hanno fabbricati e utilizzati. Gran parte del lavoro analitico di base sui tessuti viene svolto con una semplice lente manuale o un microscopio a basso ingrandimento. I tessuti hanno una struttura precisa che può essere descritta in modo molto accurato e nel ultimo mezzo secolo è stata stabilita una terminologia concordata a livello internazionale. L'analisi strutturale di un tessuto comprende la determinazione della materia prima, lana, lino, seta, cotone e così via. Ma anche parametri del filato come diametro dell'ordito e della trama, espresso in millimetri, direzione della torsione del filo nell'ordito e nella trama, l'angolo di torsione, anche caratteristiche di tessitura come il tipo di intreccio o rilegatura, può essere armatura a tela, saia, a raso e così via. Poi contiamo il numero di fili inordito e trama per sapere la qualità del tessuto e anche vediamo se ci sono i bordi, errori di tessitura e altre caratteristiche diagnostici. Queste caratteristiche empiriche possono informare la nostra comprensione degli aspetti culturali della produzione e dell'uso dei tessuti e da uno studio approfondito di molti singoli esempi, si possono trarre conclusioni molto più ampie sulle tendenze regionali e cronologiche. Per esempio l'analisi di centinaia di frammenti tessili piccolissimi mineralizzati su oggetti dalle tombe ha fornito per la prima volta una definizione molto più dettagliata delle culture tessili in Italia e in Grecia durante la prima età del primo millennio avanti Cristo, un periodo di notevoli cambiamenti socio-economici che hanno portato verso la stratificazione sociale, urbanizzazione e interazione a distanza senza precedenti. Sebbene l'Italia e la Grecia condividessero tecnologie simili durante l'età del ferro, il fuso con la conocchia bassa per filare e il telaio verticale appesi per tessere, l'Italia condivideva praticamente la cultura tessile d'Europa centrale, caratterizzata dall'uso di intreccio a saia e tessitura a tavolette, mentre la Grecia seguiva in gran parte la tradizione del Medio Oriente nella produzione tessile che produceva tele a trama dominante. La produzione di questi tipi diversi di tessuti avrebbe avuto implicazioni non solo estetiche ma anche organizzative di lavoro, poiché le risorse, il tempo e il lavoro consumati dalle varie fasi della catena operativa sarebbero stati diversi nella produzione di diversi tipi di tessuto. Questi nuovi dati ci aiutano a comprendere le scelte tecnologiche fatte all'interno di queste zone e mostrano somiglianze culturali tra altre aree più ampie, oltre a fornire una visione a lungo termine degli sviluppi tecnologici. L'aggiunta del colore sotto forma di coloranti o tinte è stata parte integrante del valore e del significato di tessuti e capi di abbigliamento. Il degrado della tintura tuttavia è rapido e quindi spesso finiamo con stracci scolorati, marroni e neri. Il recupero di questi colori perduti è ora possibile grazie a sofisticati metodi spettroscopici o analisi chimiche come la cromatografia liquida ad alte prestazioni, la cosiddetta HPLC. In combinazione con un esame rigoroso del loro contesto e di un più ampio sfondo storico-culturale, l'identificazione dei coloranti dei tessuti archeologici è la chiave per comprendere la tecnologia di tintura, lo scambio di coloranti nonché l'estetica, il valore e il significato del colore nella segnalazione dell'identità. Per esempio, l'analisi sistematica della tintura di numerosi campioni provenienti da tessuti delle torbiere della prima età del perro trovati in Danimarca ha mostrato che più di 80% dei campioni presentava tracce di uno o più componenti della tintura. I risultati indicano chiaramente che la maggior parte dei tessuti scandinavi erano originariamente tinti e che già nel primo millennio avanti Cristo le popolazioni scandinave avevano familiarità con la tecnologia di tintura, una conclusione che contrasta nettamente con l'idea precedentemente prevalente che la tintura era introdotta in Scandinavia dai Romani. Questi nuovi risultati ci consentono di aggiungere colore all'antico abito danese che sicuramente portava un importante significato sociale. Per usare i tessuti bisogna averli. Quindi l'acquisizione dei tessuti è stata una necessità economica dal periodo neolitico e mentre varie culture hanno trovato soluzioni diverse al problema, la maggior parte ha combinato produzione e scambio a vari livelli gradi. Considerando che gran parte della produzione tessile è avvenuta a livello domestico, alcuni prodotti tessili sono stati commercializzati su lunghe distanze sotto forma di materie prime, semilavorati, ad esempio lana o filato, tessuti o articoli finiti come indumenti. Il valore dei prodotti scambiati era spesso determinato dalla loro materia prima o dalla sua qualità. Se sufficientemente conservati per l'identificazione delle fibre e analisi della tintura, i tessuti archeologici possono migliorare la nostra comprensione dei materiali e delle tecniche tessile locali, nonché dei meccanismi attraverso i quali varie comunità hanno sviluppato e adattato nuovi materiali e tecnologie tessile per soddisfare le esigenze culturali ed economiche locali. Identificare la provenienza dei manufatti archeologici in termini assoluti è però spesso difficile se non impossibile. Ciò è particolarmente vero per i tessuti perché venivano realizzati con tecniche e materiali diffusi e di lunga durata e possono sfidare la classificazione tipologica e mancare di un riferimento visibile alla loro origine. I rapporti isotopici dell'elemento stronzio che sostituisce nel corpo dei vari organismi per calcio hanno recentemente dimostrato di essere un utile indicatore per la provenienza delle fibre di lana in alcuni casi. Le analisi dello stronzio di alcuni tessuti dell'età del ferro danese trovati nelle paludi dimostrano che non tutti avevano un'origine locale. Nel caso del cosiddetto peplos di Uldremose, un grande indumento tubolare conservato quasi integro, solo sei degli undici campioni analizzati erano locali mentre altri provenivano da due distinti punti fuori della Danimarca. Dato che nello stesso tessuto sono presenti lane con diverse concentrazioni di isotopi di stronzio che altrimenti sembrano molto omogenee, è chiaro che la materia prima è stata scambiata piuttosto che il tessile. Ciò suggerisce che non possiamo più supporre che la produzione di tessuti danesi dell'età del ferro fosse locale. Almeno una parte della materia prima potrebbe provenire da molto lontano. A volte il commercio a lunga distanza è indicato dalla presenza di materiali chiaramente esotici. E' il caso di tessuti conservati dal clima secco a un'altitudine di 4.000 metri sul livello del mare in una grotta a samsung a Nepal. Uno degli oggetti recuperati dal complesso della tomba samsung era composto dai tessuti di lana a cui sono state attaccate perline di rame, vetro e stoffa e probabilmente costituisce i resti di un complesso copricapo decorativo. L'analisi della cromatografia liquida ha permesso l'identificazione di una varietà di coloranti organici utilizzati per colorare i vari componenti tessili di questo oggetto composito, inclusi il lac indiano e mungit che sono nativi del subcontinente indiano. Altri due tessuti recuperati dalla tomba erano fatti di seta e uno era colorato con cinabro, un pigmento inorganico non locale. Non ci sono prove per la produzione di seta locale che suggerisca che samsung sia stato inserito nella rete commerciale a lunga distanza della via della seta. La caratterizzazione di fibre tessile coloranti nei tessuti samsung ha quindi permesso l'identificazione di un nuovo ramo della via della seta. In tutto il passato umano la produzione tessile era praticata a tutti i livelli della società ed era una delle occupazioni a più alta intensità di mano d'opera. I tessuti avevano una grande importanza culturale e sociale e dovrebbero essere presi in considerazione in qualsiasi valutazione equilibrata del passato, in particolare perché i tessuti vengono usati per la produzione dell'abbigliamento. E l'abbigliamento e la sua costruzione riflettono l'identità di un individuo o di un gruppo di popoli più della maggior parte degli altri aspetti della cultura materiale, poiché combina sia i risultati tecnologici che i valori estetici della società. La maggior parte delle società del passato, come ancora oggi facciamo noi, usavano l'abbigliamento come indicatore di genere, età, stato sociale, economico, politico e legale, occupazione, grado, religione, etnia e così via. E qua ci sono anche alcuni esempi dai tempi moderni. Negli ultimi decenni gli studi tessili si sono sviluppati in un nuovo importante campo di ricerca archeologica e storica. L'accumulo di dati e il costante sviluppo di tecniche analitiche stanno permettendo un approccio più sintetico alla storia dell'arte e della tecnologia tessile, dimostrando quando possiamo imparare sulla cultura, sulla società, la tecnologia e l'economia del passato attraverso i tessuti. Le analisi strutturali e delle materie prime ci permettono di definire e tracciare cronologicamente e geograficamente le culture tessile del passato e hanno importanti implicazioni per la ricostruzione delle diverse identità delle persone. Tali analisi tracciano anche scelte e innovazioni tecnologiche che hanno avuto profonde conseguenze per le antiche economie. Gli studi di caratterizzazione e provenienza dei tessuti sono fondamentali per la nostra comprensione del commercio e degli scambi tessili. Le indagini sugli strumenti tessili forniscono informazione sull'organizzazione e sulla scala della produzione tessile, suoi ruoli di genere e sulla mobilità degli artigiani. I dati paleoambientali ci forniscono informazione sulle risorse tessili e sul loro sfruttamento. Ultimo, ma non meno importante, l'iconografia illustra i diversi usi dei tessuti anche quando i tessuti stessi non sopravvivono più, mentre le fonti scritte possono fornire dettagli importanti delle economie tessile. Questa moltitudine di approcci interdisciplinari rende lo studio dei tessuti un compito eccitante e gratificante. E spero che l'interesse in questa tematica vi porta a studiare a Padova con noi e imparare un po' di più.